Andiamo ora a vedere come chiudere parzialmente un trade nella piattaforma CDTrader del broker Kimura Trading. Allora una volta aperto il trade, stiamo per esempio qui parlando di Euro-Dollaro, andiamo sulla nostra posizione qui a sinistra e clicchiamo proprio qui con due volte il tasto sinistro. Ecco che si apre una finestra ed è proprio da qui che possiamo chiudere parte del trade. In che modo? Andiamo sotto la scritta volume ed eccoci qui, possiamo scegliere quanto chiudere. Quindi se vogliamo chiudere metà della posizione andremo a selezionare il valore desiderato. In questo caso avendo aperto un loto di Euro-Dollaro che è pari a 100k, quindi 100.000 dollari, cosa andiamo a scrivere? Andiamo a scrivere 50k, quindi 50.000 euro, in questo caso non dollari. Ecco che quindi possiamo subito andare a chiudere 50.000 dei 100.000 totali. Con un semplice clic abbiamo chiuso parte del trade.